Allora, 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 oddio, 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 allora, allora, allora Ma che cazzo ho appena trovato, ma che cazzo Che ragazzi come va, io sono Aleph Nox, veloce, veloce, siamo su Minecraft, lasciate mi piace, condividetelo di quale del... Questa è la fine, no, mi sto confondendo Praticamente stavo togliendo terra, vedete, è molto molto più pulito, quello lo lascerò così, perché è parte della montagna Questo comunque lo lascerò così, però stavo togliendo questa terra, vedete, e questo è profondo, è molto profondo per qualche motivo Non so quanto è profondo, però quando stavo togliendo qua la terra di qui, perché ho detto, beh, quello ve lo faccio vedere E mentre toglievo questo, ho scoperto questo, che c'era un blocco di legno E io sono sicuro che non l'ho fatto io, questo non l'ho messo io qua, ma se io non l'ho messo... Ma che cazzo, perché cavolo c'era qua un... ve lo giuro, no? Ho pensato, cazzo, non sarà la Minecraft, perché cazzo questi sono di colori diversi, perché non lo so Comunque, sono rimasto patidiffuso, cioè così, papapapai, non capisco un cazzo Vi giuro, no? Non capisco nulla Qua c'era, cioè, stavo togliendo terra, ho tolto questo blocco, qua c'era un pezzo di legno E ho detto, ma che cazzo... Va bene, va bene, lasciamo così, adesso poi blocco, blocco, blocco questo Qui metto due di stone e abbiamo finito Quindi, intanto, lasciando di lato questo... questo accad... questo... questa situazione è accaduta Questo avvenimento nella nostra... nella nostra avventura Togliamo tutta la terra che abbiamo qui Giuro, non so che cazzo si è successo lì, che c'era un blocco di legno Lì dentro, la terra, lo stone, non ho capito, sono rimasto scioccato Togliamo tutta questa terra che ormai abbiamo finito E possiamo iniziare a piantare, a fare la nostra piantagione molto figa di cose Magari, magari un po' di... così come abbiamo fatto là, no? Un po' bello Facciamo i due tipi, le due tipologie di zucche Cioè, zucca e melone Melone? No, il watermelon non serve il melone Va bene, quello e mettiamo magari un po' di canna di zucchero E lo piantiamo qui Credo che sarebbe molto bello, no? Faremo, se lo facciamo bene Può venire molto bello, magari con un piccolo laghetto Qualcosa del genere, che abbia qualche lilipad Non lo so, potrebbe essere... Rili si è rotto di... Stavo... cioè, di ferro Ovviamente si rompe Ho bisogno di un letto Ho bisogno di un letto Va bene, continuiamo il nostro laghetto Devo illuminare tutto, eh Devo salire lì Saliamo intanto Devo... oh, illuminare questo Perché non voglio né sorprese, né problemi Né nessun tipo di... niente Nulla Non è rimasto niente No, la terra l'ho messa lì Quindi possiamo continuare a togliere E abbiamo finito praticamente Va bene, no, lo abbiamo togliere anche questo Va bene, stiamo finendo, stiamo finendo Vamos, vamos Ok, abbiamo finito No, ma che cavolo Ma tu stai giocando con me Questo... oddio No, 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 no Questo... non me ne frega, eh Questo lo... 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 lo copro con un po' di stone E... fanculo Perché se no, cioè, non è per niente bello È un buco proprio come una caverna Questo lo... 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 lo riempirò E mettere un po' di stone Che sicuramente ci abbiamo un po' a casa Vogliamo tutto quello che c'è qua Ehm... fino a qua, più o meno Fino a qui E... e poi... c'è un po' di... ok Non sono del tutto sicuro di quello che devo fare qua Questo lo posso togliere E quindi tutto questo lo tolgo Ok Adesso ho capito tutto Questo lo lascio perché è bello Magari questo invece di metterlo lì Piazzo una... really? Una... due... tre E da questa parte un'altra E ci sta Ci sta, credo, no? Credo che ci stia Finiamo di togliere questo E abbiamo finito questa parte Questa fase della costruzione Della nostra bella... agricoltura Di zucche e meloni Ok Mettiamoci al lavoro Questo sì lo tolgo, eh Questi qui li tolgo Questo no però... No, questi sì, che cazzo Quindi come voglio fare il nostro lavoro Ho bisogno di acqua infinita Dove c'ho acqua? Dove dove c'ho acqua? Non lo so Siamo così Andiamo un po' lì Andiamo a prendere un po' d'acqua nel laghetto Io poi ho pensato Ma che cazzo sarà questa struttura là? Ma no, cioè Pensando a spazialmente È impossibile Perché quello l'ho costruito lontano Non c'entra un cazzo con il pezzo di legno Che lo... Io vi giuro Sono rimasto molto molto Stranee 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 Come cazzo si dice? Sono molto... Sono rimasto molto cioccato Basta, basta Basta termini strani Non parli l'italiano come parli lo spagnolo Perché non è la tua lingua madre Ale Calmati Quindi Tornando nella nostra zona Possiamo mettere qua Questo Dai facciamola Facciamola Perché sì Questa è vero È vero Questa è acqua infinita Però questa non è questa No, quindi facciamola bene Por favor Ok Quindi Illuminiamo Illuminiamo la zona E io direi Avendo questo Possiamo iniziare Quindi Come lo facciamo? Pensiamo Se io questa struttura sarebbe bello Per esempio Vedere due Magari così Attaccate qui Che crescano verso di qui Sapete? Sapete a cosa mi riferisco Oh no, 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 no Molto più bello Molto più bello Molto più bello Oh, possiamo fare degli slabs Così noi decidiamo Dove cazzo vogliamo che crescano Quindi facciamo degli slabs Magari chiari Facciamo degli slabs chiari Intanto Questo si riempie di terra Ok Facciamo degli slabs Molto belli Non so quanti esattamente Però facciamo tutti quelli che posso fare 60, va bene E lo facciamo a moduli Sempre a moduli No? Come un piccolo nucleo di 3 per esempio Facciamo 1, 2, 3 E qua sarà piantata la nostra zucca, no? Tipo una qua Una Zucca 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 Poi uno spazio Oh, questo quindi lo devo togliere Yes Eppure questi li devo togliere Va bene, va bene Non ci non fa niente Facciamo 3 Abbiamo meloni Qua lasceremo 4 per esempio Possiamo lasciare 4 Per piazzare la canna di zucchero La canna di zucchero Quindi 1, 2, 3, 4 Vorrei che mettiamo 2 di canna di zucchero Facciamo 1, 2, 3 E poi altri 3 Oh, perfetto Perfetto Mamma mia È proprio perfetto Proprio come ce l'ho in mente Che aspetta Oh, no, 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 no Ok, abbiamo finito questo Praticamente Togliamo qua questo strato Dovremmo togliere anche il suolo ovviamente Cioè è una realtà È una realtà che dobbiamo affrontare Ok? Io l'ho affrontata Molto bene Passiamo avanti No, 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 no Ma che cazzo stai facendo? Ok Ok, abbiamo riempito Io ce l'ho questa Dovrò iniziare a trasformarli in dire Voglio o non voglio Devo farlo per forza Cioè voglio Ovviamente voglio Però, ok Calma, calma, calma Questo li devo trasformare Così, eh Attenzione È una cosa molto bella Tolgo questa terra Che proprio sinceramente Non mi piace Ok E qua magari un laghetto Facciamo poi un laghetto qua Ripiamo tutto questo di terra E facciamo un laghetto Molto bello Sì, sì Mi piace di terra Tu che fai nel mio territorio? Nel mio Nel mio territorio Cazzo Vaffanculo 3 di armor Mi rompo i coglioni Questo lo devo riempire Di qua, di là 2, 3 1, 2 E 1 1, 2, 3 Ok Adesso è lo stesso da questa parte Però da questo lato Usando questa altezza No, no, no Così E facciamo 2, 3 Facciamo 1 No, no, no Se piazzo 3 Lascio 1 E piazzo altri 3 Cazzo Così Oh, cavolo Il piccone Ah, pure mi hai dato questo No, vattene a cagare Prendiamo dirt Por favore Dimmi che c'ho dirt Non c'ho dirt Non c'ho dirt Quindi dovrò trasformarlo Dovrò trasformarlo Mamma mia Che rottura Voglio che tutto questo sia verde Quindi devo per forza Trasformarlo tutto Il bello è che si riesce a distinguere, eh Non c'è qua Qua proprio ho mancato Però si riesce a distinguere Mi sa che abbiamo quasi finito In quanto a trasformarlo What off Certo, l'ho usato un sacco Anzi Meno male che non si è rotto prima Facciamo un altro Lo posso fare? Certo che lo posso fare Non lo posso Come puoi dubitare, Ale Non puoi dubitare facendo queste cose Questo deve essere tutto verde Tutto, tutto verde Ecco, vedi, questo Questo non era fatto Ok, questo adesso è fatto 1, 2, 3 4, 5 Mi sa che anche questo Non posso dirlo Non posso dir Secondo me sia Ah, no Niente Scusami Ok Adesso questo Ok Va bene fino a qua Fino a qua va benissimo Ok Oddio Questi tutti sono fatti malissimo Sono qua a sedirti del cazzo Ok Questo già l'ho trasformato E praticamente noi abbiamo finito questo percorso di trasformare in dirti Ora Che, 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 che accade? Adesso noi dobbiamo fare Praticamente visto che Acqua pianteremo No, facciamo faremo la piantina Questo deve essere così Questo deve essere così Questo dovrà essere Per forza anche No Così, 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 così Qua avremo le nostre Le nostre Di qua, di là Le sugar cane E qua, ovviamente Piazziamo l'ultimo Adesso Ok Oh, non era l'ultimo Che cazzo Sei pazzo, Ale? Non è l'ultimo Sei pazzo Sei proprio un pazzo Furioso Ok Ora Faccio così Tutto questo è quarsedire Tancora Ma non mi rompere i coglioni C'è proprio Proprio quarsedire Adesso Adesso si è fatto Grazie Lei terzo Quarto Ok Dobbiamo lì Facciamo uno, due, tre No, 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 no Qua dobbiamo fare quattro E sono quattro Proprio perché Uno, due, tre Allora Uno, due, tre, quattro Quindi sarebbe qua Così E dobbiamo togliere ovviamente Tutta questa stone Oh yeah Così mi piace Questo è quarsedire Sembra di sì Però non sono sicuro Quindi No Questo è già dire perfetta È spettacolare Questo neanche Quindi se io piazzo adesso Quarsedire Posso trasformare Ok Quindi Uno, due, tre Facciamo così Facciamo così Come mai Ah perché qua Ho lasciato troppo spazio E adesso risolviamo Non fa niente Cioè se abbiamo lasciato troppo spazio Si risolve Cioè Ma che pensate Che non si risolve Ovviamente si risolve Facciamo così Adesso sarebbero Uno, due, tre Quindi in questo Faccio così E tolgo quello che è in più Cioè non fa niente Assolutamente Ah guardate questa quarsedire Che c'è qua Vogliamo trasformarla Passare no la terra Si si Cioè la terra è la grass Adesso devo No in realtà questo non ci vuole Perché questo Lo vogliamo Allora questo intanto Lo riempo E lo trasformo Perché questo Cioè questo voglio Io voglio almeno Che sia un Un posto Ok Questo lo posso togliere Però voglio che questo sia Un unico livello Dove avremo un laghetto Molto bello tra l'altro Sarà bellissimo Espertacolare Con delle lillipad Sì delle lillipad Cominciamo tutta questa corsa E la trasforma Approfittiamo per trasformarla Oh che bello Saper romperci La La off La asada La iron hoe Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ok Secondo me abbiamo quasi finito Cioè secondo me no Cioè è una realtà È un È una Veracità del mondo Questo il fatto che Abbiamo già finito Abbiamo già praticamente finito questa zona Non lo so Io non lo so Io ho iniziato a parlare Da un bel po' In maniera Per potenza Perché sto semplicemente Trasformando Quar se dirt in dirt Che non è molto interessante Diciamo Però va bene Fa parte del nostro lavoro No non devo farlo qua Qua non c'è bisogno Il corse dirt Non si vedrà mai Oh no C'è troppo Corse dirt Ma no Non ho voglia di trasformarlo adesso C'è una quantità assurda di corse dirt Che proprio Guarda Non voglio sapere niente Prendiamo la dirt E mi rompre i coglioni La dirt Tutta quella è possibile Ok Oh cazzo Mamma mia Che occhio d'aquila D'aquila Un'aquila sono Posso vedere come un'aquila E adesso che piazziamo Si lo possiamo lasciare così Io direi no La prima cosa che faremo sarà così Ok E riempiremo tutto questo di terra Assolutamente tutto Perché poi dobbiamo fare un secondo piano Un secondo non piano Un secondo strato I termini I termini Devi parlare bene Io lo so che devo parlare bene Scorsami Non so Sorrì No Non è caduto Non è male Non c'ho quarsedire C'ho per terra C'è cadere Attenzione Quasi cado eh Quasi cado Madre di Dio Adesso per esempio è così È così Ok Adesso posso illuminare un po' No Non mangiare Non mangiare quello che è molto valioso Non mangiare la patata Perché la patata non si mangia Adesso non si mangia Attenzione Quindi si illumina un po' E io direi di Illuminare un altro po' Da queste parti Dove dobbiamo mettere l'acqua La mettiamo in queste zone Tipo qui E lo copriamo magari Così Possiamo fare Così questo Bagna no Bagna Tutto quello che c'è Attorno E una volta che lo bagna Oh cazzo Una volta che lo bagna Ok Faccio così Oh cazzo Devo rompere questo per forza Ieri mi sono messo a vedere John Wick La prima Ho già visto la terza Cioè ho visto la prima Poi ho visto la terza Sempre su Amazon Prime Volevo vedere la seconda Non ho potuto vedere la seconda E ho detto cazzo Ma che cazzo sto facendo Volevo vedere la seconda Non ho potuto vedere perché Devo pagare per vedere la sua Amazon Prime Oh no mi rompe i cosi Ma tu mi stai trollando Cioè Incredibile Niente che ho guardato John Wick È un film Un film spettacolare Ve lo giuro A me piace un sacco Perché è molto esagerato A volte A volte neanche si prende Il film stesso Non si prende seriamente È molto figo È molto divertente È molto L'action molto esagerata È spettacolare Non lo so È un film figo È un film molto figo Cioè tre film Sono tre film molto figli Adesso qua Ok Dobbiamo illuminare Illumino lì Illumino lì Illumino da quelle parti Wow Wow Ok Adesso prendiamo l'acqua C'è un po' d'acqua Certo che c'è un po' d'acqua Vediamo Mettiamo lì E chiudiamo Adesso prendiamo un altro Andiamo da lontano Verso vicino Questo mi sono spiegato però Da lontano Cioè qua E piano piano andiamo verso di là Acqua da qui Acqua da là Vedete? Così mamma mia che bello Sarà bellissimo Non vi dico nulla Oh sì 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 Perfetto perfetto Non c'è nessun problema Ho avuto io una paranoia strana Però no Perfetto E adesso Facciamo questo Questo lo dovrei allungare un po' di più Con lo stone Lo stone dobbiamo riempire qua Riempire un po' là Riempire Fare un muro almeno qua Per togliere Stavate? Non avete capito Va bene prendiamo Prendiamo intanto un po' d'acqua Andiamo lontano E chiudiamo Praticamente questo è il lavoro Che devo fare oggi Guarda Ho fissato la luce Adesso non posso vedere più Ah sono cieco Oh Guarda questa luce del cazzo Che enorme È una cosa enorme Quindi Finiamo di riempire Intanto riempiamo Forse così fare Riempendo subito Che mancano due Uno Manca un altro Un altro viaggio Sarebbe l'ultimo viaggio Per quanto riguarda Il riempire d'acqua I buchi E adesso Pam E pam Che figata E per quanto riguarda Il canale di zucchero Io direi Disculpame La prendo lì Faccio così Acqua infinita E facciamo così Per esempio E lo stesso qua Faccio acqua infinita La pre Ma sei pazzo Faccio così Metto questi due E qua piazzerò La canale di zucchero Deve diventare tutto verde Però ci metterà un bel po' Un bel 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 tantino Un po' tanto 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 Però va bene Sono fatti L'idea ogni giorno Io direi di piantare Di approfittare per piantare Spero che non si rompa Si rompa sicuramente Uno due tre Uno due tre Un fuck Proprio adesso Vaffanculo Potrei aspettare un altro po' No? Cioè Che disgustoso Facciamo un meno male Meno male Che ho sempre con me Uno stack di Guarda dai Mi rimangono 29 Però uno stack di ferro Mi avete capito E possiamo lavorare Devo essere FK Devo mettere FK di nuovo Devo fare un di ferro Se no non funzionerà più Non la farò funzionare più Uno due tre Uno due tre Ah certo Perché questo è per la canale di zucchero Due tre Uno due tre A posto E adesso uno due tre Uno due tre Uno due tre No 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 Qua No Qua No Qua No Qua Ok Qua no Ok qua si Ok ok Uno due tre E adesso dobbiamo piantare Allora io direi Visto che ho poche In realtà no Si poche Visto che ho poche Facciamo per adesso Facciamo una Non lo so Qua facciamo due Facciamolo un po' a scambiato Non scambiato Qua uno E poi quando crescono Metto gli altri Quindi adesso mettiamo Uno lì Due qui Qua non ho messo un cazzo Ma se qua ci sono due Poi ci sarà uno Va bene E quindi se là ci sono Ma che cazzo ho piantato Questo che cazzo è Melon si Beh se qua Se qua ho messo due Qua metto uno Qua metto due Quindi se qua ho messo due Qua metto uno Qua metto due Qua che cazzo è successo Ok e adesso si prende un po' di bombomil Sicuramente li farò crescere Soprattutto voglio far crescere Alla A questa qua A questa Vediamo se mi da qualche Facciamolo a crescere tutti Perché evitiamo che Non so se quello lo può rompere Quindi evitiamo 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 Facciamo crescere tutto Tanto ci basta perfettamente Ah mamma mia Ok Quanto manca In realtà quanto manca Non lo so Ok facciamolo crescere Facciamolo crescere Facciamo qua No Cazzo Questo adesso Bene poi si aggiusta Adesso romperà questo centrale E questo può crescere A entrambi i lati anche Oh va bene Fatti della vita Che posso fare What? Toma Allora Quattro Altre quattro Vamos 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 Ok Vediamo 1 2 Facciamo crescere tutto O cacchi Mi rimangono soltanto 20 Eh non so se mi basta Sì sì Mi bastano Mi bastano Mi bastano perfettamente Qua devo mettere uno E lo faccio crescere Oh yeah Oh yeah Boy Io spero che Questo video Mi sia piaciuto un sacco Se è così Lasciate un bel Mi piace Condividete con i vostri amici E ci vediamo Quando ci vediamo Un altro giorno Adios 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 Adios